La vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica per la prevenzione primaria delle malattie infettive. Inizia così il saluto che il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha inviato al Comitato Scientifico e ai partecipanti del convegno dal titolo La rivoluzione della comunicazione per le vaccinazioni che si è tenuto a Fano nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. A organizzarlo l'Azur Marche Area Vasta 1 in collaborazione con la Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. Siamo tutti convinti che il tema deve essere affrontato su vari fronti, sia il fronte politico, c'è un calendario nazionale che è in discussione in questo momento, sia sul fronte delle comunicazioni dove dobbiamo fare ricorso a risorse e a mezzi di comunicazione nuove come il web, come il sito Vaccinarsi che la nostra società scientifica, in collaborazione con altre società scientifiche, ha raggiunto un milione di passaggi. Significa che c'è molto bisogno di comunicazione per informare correttamente i cittadini su quali sono le possibilità per prevenire malattie importanti. Un argomento questo di grande attualità ha visto il continuo calo di vaccinazioni anche nella regione Marche. Di conseguenza si è verificata una pesante diminuzione di quasi tutte le coperture vaccinali e in alcuni casi, come per la rosolia, il morbillo o la parotite, con percentuali che comportano il rischio di un ritorno ad ondate epidemiche. Stiamo registrando un trend che è un trend nazionale, ma nelle Marche è un pochino più spiccato. I dati di copertura vaccinale si stanno abbassando, è un trend che sta continuando da alcuni anni a questa parte. Siamo arrivati a delle soglie di copertura preoccupanti per vaccinazioni importanti, come la vaccinazione contro il morbillo, che è una malattia potenzialmente mortale, e siamo preoccupati che questo possa essere il viatico per registrare nuove epidemie di una malattia che abbiamo ormai dimenticato. Appare quindi importante un'adeguata formazione degli stessi operatori sanitari, e coinvolgere i professionisti della comunicazione. La vaccinazione è un presidio medico, uno delle principali, più importanti, che ha una grande efficacia e sicurezza nei confronti della prevenzione delle malattie infettive, e da un punto di vista della comunicazione non emerge questo aspetto così importante e rilevante, mentre emergono gli aspetti molto spesso più negativi, per quanto esagerati, rispetto a quella che è la realtà. Quindi di fatto occorre parlare, ripensare e ritrattare quella che è la comunicazione in ambito vaccinale, e soprattutto quello che è il rapporto con i mass media. Su questo abbiamo bisogno della mano dei giornalisti, della stampa seria che sia motivata da un punto di vista scientifico.